Presidente, una bella mostra che sta già ottenendo un grande successo e soprattutto per la prima volta sono esposte alle più belle colorate mutazioni degli uccelli. Sì, finalmente siamo riusciti a Crudone a fare una piccola manifestazione, naturalmente a livello ancora amatoriale, riconosciuta dalla FOI, quindi sotto legifera della FOI nazionale. Per Crudone è già un bell'inizio perché ci voleva, dopo tanti anni di latitanza da parte del settore ornitologico, siamo riusciti ad organizzare nel nostro piccolo una bella cosa. Dobbiamo dire anche che questa è la prima volta che a Crudone si fa una mostra di questo tipo? Sì, sì, certamente è la prima volta, è la prima esperienza che stiamo facendo, sembra che proceda bene e che la cosa che mi fa piacere è che c'è la partecipazione dei bambini, perché è la mancanza dei bambini che ha portato a questo distacco dal mondo ornitologico, perché quando eravamo piccoli noi tutti avevamo un canarino almeno sul balcone, oggi i bambini con l'uso di cellulari, social e via discorrendo si sono molto allontanati da quello che sono le piccole soddisfazioni della vita, insomma i piccoli ricordi che poi uno si porta nel corso della propria vita e sembrerebbe che i ragazzi rispondano bene. Quanti bambini stanno venendo? Tanti? Sì, sì, sono venuti tantissimi bambini, anche a mostra chiusa, stiamo raccogliendo parecchi consensi, per fortuna. E questo significa che avete raggiunto l'obiettivo? Sì, l'abbiamo già superato, fra un po' e già domani mattina contiamo di veramente di riuscire a coprire tutta la fascia d'età dai bambini fino agli adulti. Questa mostra è oggi e domani e poi avete in mente di portarla da qualche altra parte? Non facciamo in tempo noi, perché l'organizzazione di una mostra richiede parecchio sforzo, parecchi sacrifici, andare a prendere le gabbie da esposizione, selezionare gli esemplari, non è facilissimo, anche perché già dopo domani c'è una mostra in un'altra città, in tutta Italia, perché è il periodo dopo la muta, quindi è il periodo ideale per fare le mostre, le fanno tutti.